I dati forniti dallo SHIELD hanno rivelato la posizione della squadra d'élite dell'AIM. Abbiamo l'occasione di eliminarla prima che l'AIM possa schierarla contro la resistenza. Sarà un'operazione rapida. Eliminate i bersagli e tornate indietro sani e salvi. Grazie a tutti. Nelle vicinanze c'è una squadra d'élite AIM. Aggiorno l'interfaccia. Addio! Ehi, pinta, si apra! Elico avvistato! Dovete sconfiggere tutti i membri della squadra d'élite. Anche il tempo mi obbedisce! E a un punto di metà! No. E un punto di metà! E un punto di metà! Anche il disproportionately è . Ha! Chiara! Grazie a tutti. Grazie. 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 Uno dei loro agenti è aperto. Grazie. 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 Eccellente. Altro agente a terra. Grazie. Ben fatto. Avete neutralizzato tutti i membri della squadra. Mandatevi un sentiero. Questa è la fine per te. Grazie. 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 Grazie.